Allora, eccomi qui tornato Allora, volevo dire che l'ultimo video è stato almeno due anni fa e a me là mi hanno, non so che mi hanno fatto, bannato o mi hanno fatto uscire dall'account da Playstation a Youtube quindi quando ero piccolo facevi video come sapete e fu un giorno che volevo fare un video e mi diceva che devo fare di nuovo l'accesso e non lo sapevo fare comunque l'ultimo video l'ho fatto due anni fa che era capitolo 2, season 3 e mezzo e ora rieccoci qui nel capitolo 2, season 8 sono passati un po' di anni e allora questo era questo era il tutto che vi volevo dire perché mi hanno bannato tutto e... che dire domani farò un video non so, una challenge con i miei amici perché i miei amici, ora che fin da pure la scuola giocano sempre quindi giocheranno sempre quindi raga domani farò un video e vi chiedo il per favore di iscrivervi iscrivervi a questo canale perché il mio me l'hanno bannato che avevo... anche perché non so se me l'hanno bannato io non vedo da un sacco di tempo non lo vedo quindi per favore iscrivetevi ciao ciao Grazie.